Buongiorno Sindaco, si è concluso il mondiale di Anterselva, qual è il vostro bilancio? Devo dire che siamo contentissimi, abbiamo dopo tanti anni di preparativi, siamo riusciti anche a organizzare bene, il mio complemento al comitato organizzativo, quasi una piccola storia che qualcuno ha scritto, siamo contenti, grazie. Ha partecipato un'altra gente della popolazione a questo evento, tantissimi volontari, quanto siete orgogliosi anche voi come amministrazione? Come detto ho ricevuto anche tanti complimenti da responsabili della federazione internazionale che sono rimasti tutti contenti, hanno visto che ognuno si è impegnato, diciamo anche che non solo le strutture sono state ampliate e messe bene, ma anche funzionava tutta l'organizzazione, tutti erano rilassati, aiutava anche il meteo, diciamo anche i belli giorni, e così è un'atmosfera speciale come anche lo sport e i tanti successi dei nostri atleti. Quanto è importante un evento del genere anche per l'impatto turistico, pure per i prossimi mesi, magari in estate qualcuno potrà ritornare? Abbiamo quella discussione già da tanti anni e cerchiamo sempre un po' di dividere sia questo evento anche dall'impatto turistico, sappiamo bene diciamo che ci vuole questo insieme dal turismo perché sia il letto i posti diciamo che questo evento ci vuole, è importante che gli albergatori e il comitato lavorino insieme, ma dall'altro punto dobbiamo sempre essere riconoscenti che il sportivo, l'ospite, i partecipanti diciamo è una parte un po' speciale e durante l'anno di sicuro abbiamo un aumento, una crescita del turismo, ma non è l'unico punto diciamo di forza nella nostra regione e cerchiamo sempre di essere un po', di avere una base più larga diciamo. Per anni avete ospitato la Coppa del Mondo di Biathlon, quest'anno i mondiali, avete ospitato la scorsa estate anche il Giro d'Italia di ciclismo, quindi un bellissimo evento che è da Anterselva e adesso 2026. Giusto diciamo, l'evento era un po' impegnativo anche il Giro, devo dire abbiamo imparato anche qualcosa perché vedendo che è davvero un spettacolo ben organizzato e così con questa tradizione diciamo di eventi abbiamo puntato adesso il 26 e penso che qualcuna ancora esperienza ci vuole, anche una nuova esperienza che di sicuro le Olimpiadi sono un po' speciali e niente, siamo adesso orgogliosi di aver fatto questo mondiale e poi vediamo di andare più avanti diciamo sì. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.